La registrazione, perfetto. Eh sì, a volte vi parlo in francese, mi scuso, ma c'è un sacco di tempo che non parlo in italiano e scusatemi, quindi se faccio degli errori farò del mio meglio per non farli, però non vi garantisco niente. Ecco, partaglio l'écran e cosa? Sette e l'otto, eccoci, siamo qui. Perfetto, si inizia. Allora, farò così anche, così. Allora, vi ho lasciato, ho fatto ieri una presentazione per i miei pazienti in Francia, quindi è ancora quasi tutto in francese, ma vi lo tradurrò. Allora, perché se avete bisogno di guardare il mio nuovo sito, è quello, tutti i mail si devono, ecco, tutte le domande sono a questa mail, le avete dopo il webinar. Allora, perché partecipare? Se avete dolori intestinali, se avete dolori anche muscolo articolari, problemi anche di angoscia, di addome pesante, dolorante, dolore, anche stanchezza fisica, a volte si parla anche di, sento spesso problemi di concentrazione, tutto, tutto, tutto viene dall'intestino. Fare un altro webinar sulla malattia di Lyme, che è una delle cause dopo l'intestino della manifestazione di fibromialgia, di sintomi, della sindrome fibromialgica piuttosto, e perciò dovresti partecipare perché tutto parte dall'intestino. Allora, chi sono? Per quelli che non mi conoscono, vedo qualche paziente che ho già visto in Italia. Chi sono? Sono Andrea Fernandez-Indulski, ho una laurea in scienze biologiche e specializzazione in medicina complementare. Sono anche medico naturopata, secondo gli studi australiani, iridiologa, geobiologa, tra tante altre cose. Perché mi interessa? Quale mi interessa nella fibromialgia? Sono stata affetta da questa sindrome dal 2008 al 2009, per finire di non avere più dolori ai piedi e poter fare un dislivello di più di mille metri senza piangere nel ritorno a casa mia. Quindi ho messo fine a tutta questa problematica definitivamente all'intorno del 2014, che ho trattato diversamente imparando nuove metodiche. Allora, i microbiota, che sono tutti i batteri che abbiamo nell'intestino, comunicano, fanno una comunicazione tra l'intestino e tra il cervello. Si deve sapere che l'intestino invia 10 segnali al cervello e che il cervello invia solo uno all'intestino. Quindi qui partiamo già da un punto di vista che tutto parte dall'intestino, perché è l'intestino che va a parlare al cervello, che va a dare degli ordini tramite il nervo vago, il nervo 10. Quindi tutto ciò che accade a livello di tessuto adiposo, scusatemi lei, stiatosi epatiche, quanti pazienti vengono con problemi di stiatosi, o anche di transaminasse elevate e tutto parte dall'intestino, dato che il microbiota non aiuta l'immunità intestinale, la funzione enteroendocrina anche viene affetta e certamente il metabolismo, ci sono quelli che aumentano di peso o che non possono avere un buon peso ponderale, adeguato alla statura e all'altezza, dovuto a un squilibrio del microbiota intestinale. Il cervello va anche ad avere dei problemi, va a cambiare comportamento, quindi le persone vanno a cambiare atteggiamento, vanno ad avere cambiamenti di umori e avere difficoltà motorie. Ritornando al tessuto adiposo, quindi si aumenterà il tessuto adiposo, il fegato diventerà stiatotico, quindi avrà una stiatosi epatica, con un cambiamento di transaminasse, dolori muscoli articolari si metteranno in moto e ci saranno problemi di vasi sanguini, avendo anche problemi cardiovascolari, problemi di colesterolo che vengono anche dal fegato, che era già stiatotico, problemi dagli occhi, quanti di voi che vengono per problemi sia di fibromialgia che di intestino hanno degli occhi secchi, quindi c'è un problema di fluidità oculare che si mette anche in orbita con un squilibrio del microbiota. E problemi bucali, problemi di bocca, tipo gengiviti, parodontite, che viene anche da una traslocazione di microbiota intestinale a quello in bocca. E anche si deve sapere che c'è una traslocazione di microbiota fino al cervello quando c'è la barriera, quando la barriera ematoncefalica diventa permeabile. Quindi questi microbiota vanno dappertutto a creare dei problemi. Vediamo anche perché il fegato diventa una stiatosi, c'è anche una stiatorea, quindi dei feci pieni di lipidi, perché il problema viene dai microbioti. Il povero fegato non c'entra niente e anche quelli che hanno problemi a livello di reflusso gastroesofageo, il povero stomaco non c'entra niente e anzi prendere dell'IPP, degli antiacidi, crea enormi difficoltà perché va ad aumentare i patogeni intestinali, quindi i patogeni intestinali, che aumenteranno il reflusso. Quindi non cambia assolutamente niente prendere degli antiacidi, sino a creare ancora più disturbi. Allora, vediamo un pochettino, vi porgo la domanda, allora è se i suoi problemi di salute non derivassero dallo squilibrio del microbiota intestinale. Quando vediamo l'effetto che il microbiota ha, visto che è quello che comunica intestino e cervello, diciamo che io in 15 anni di pratica non ho mai visto o non ho mai avuto un paziente a chi non ho dovuto trattare l'intestino, anche se venissero per una depressione, per problemi di colesterolo, come è arrivato l'altro giorno, un problema di colesterolo che era legato al microbiota intestinale, anche l'ipertensione, i bambini autistici, tutto, tutto, tutto parte dal microbiota, sia dell'intestino tenue che sia del grasso. Capito? Vediamo questo. Allora, teniamo in conto che questo legame tra l'intestino e il resto del corpo è a livello del concepimento quando siamo un embrio. Spero che si dica così, se no scusatemi. Quindi l'apparato digerente è collegato al sistema respiratorio, al sistema geniturinario e al sistema oculare. E lì capite un sacco di cose perché sicuramente se avete soffritto la fibromialgia o se soffrite di problemi digestivi vari, sapresti che ci sono anche a volte problemi di difficoltà nel respirare, c'è apnea, asma, c'è la secchezza oculare, ci sono a volte donne che soffrono di gestite ripetizioni, ma tutto è legato all'apparato digerente. Tutto, tutto, tutto perché ci sono cellule enteriche che si differenziano poi in neuroni e che diranno più tardi nella vita ciò che accade nell'intestino avrà un legame nervoso con gli altri organi. Ed è perciò che il percorso patogenico di problemi digestivi inizia da un'alterazione della flora batterica sia per una manifestazione di disbiosi, di sibo o di sifus, vi dirò subito cosa significano queste sigle, che crea una reazione immunitaria della mucosa intestinale creando quindi una iperpermeabilità, un'intoleranza a certi alimenti solitamente si tratta di glutine e la caseina creando quindi un'infiammazione di tutte le mucose corporee bucali, digestiva, respiratoria, urovaginale ed oculare che finirà più tardi perché il corpo dà qualche segno dicendo che oggi ti dico che l'intestino non va per niente bene. La persona può non avere, nonostante nessun sintomo intestinale, ma avere delle gengivite e una paradontite per esempio. E quindi il corpo dice, ti do una paradontite per farti capire che qualcosa dentro non va, dieci anni dopo diventa un lupus. Ma la persona quindi va al dentista, che sono dei massacratori, massacratori e secondo me va poi diventa, va dieci anni più tardi al immunologo per un'altra malattia che era generata nell'intestino. Quindi nessuno dei due ha capito niente e la persona continua ad essere malata. Solo per dare un esempio, però di esempi ci sono tantissimi, così che diventiamo in tanti tanti professionisti vari, quando il discorso è sempre l'intestino, parte tutto da lì. Quindi la disbiosi, cosa significa disbiosi? La disbiosi significa che i batteri, i simbioti, i simbionti, i batteri buoni nell'intestino sono in squilibrio riguardo ai cattivi, ai patobionti. Quindi ci sono più patobionti che simbionti. Capito? Questo cosa comporta? Aspettate che vi metto la presentazione perché ho saltato, ho evitato tutto perché non volevo fare la traduzione. Sono stata molto presa dal lavoro. Allora, si deve capire che il microbiota del tratto gastrointestinale comprende virus, batteri, funghi e protosoi, è stimato in quasi 100 mila miliardi. Siamo più batteri, funghi, protosoi che umani. Quindi perché dimenticarli quando sono questi che controllano anche come pensiamo, chi siamo, come ragioniamo, cosa sentiamo quasi. I dati generati dalle studie del progetto Human Microbiome hanno rivelato la presenza di circa 2200 diverse specie microbiotiche nell'intestino. Quindi siamo più batteri che altre cose. E finalmente l'Organizzazione Mondiale della Salute ha suggerito che il grado di disbiosi può controllare la gravità di varie malattie. Finalmente qualcosa con senso. Finalmente se siamo già arrivati all'Organizzazione Mondiale della Salute vuol dire che ci stiamo rendendo conto che tutto parte da lì, tra cui problemi di metabolismo, di obesità, di malnutrizione, di diabete fino a problemi renali, di ipertensione, problemi cardiovasculari e malattie infiammatorie croniche, capito? Come loro fanno come esempio la malattia infiammatoria intestinale, la colituccia rossa o il morbo di Crohn. Quindi tutto parte da una disbiosi. Quando c'è un squilibrio di flora batterica, dove c'è più flora batterica cattiva, ci sono più patobionti che simbionti che buona flora batterica. Perché io a volte non conosco un solo paziente che dopo 15 anni che non presentasse il momento della prima consulenza sia con i funghi, candida, batteri, vari intestinali, parasiti e vermi. Mai, mai in 15 anni di carriera. E non penso che la situazione cambia. Sovente i pazienti mi chiedono, ma come mai dottoressa io ho tutti questi microbi intestinali? E la risposta è se hai un cane o un gatto. A volte mi dicono che no, a volte mi dicono che sì, ma sovente la persona ha vissuto una volta nella sua vita con questi animali domestici. Allora, in quale frequenza questi animali vengono parasitati? e subiscono trattamento antiparassitario, diciamo. Avendo chiesto ai veterinari se è ogni 3 a 6 mesi, secondo il coinvolgimento del padrone dell'animale. Allora, noi a quale frequenza facciamo una purga? Mai. Ci sono pochissime persone, sino, una volta si faceva più spesso. Io, lavorando in Francia, sovente i vecchi, diciamo, quelli di più di 75 anni, mi raccontano che i loro noni facevano, mettevano o il malo di noce verde con la luna e lo giravano e mi raccontano tutte queste storie che lavoravano con le lune per trattare i vermi. E ho imparato tantissime cose con loro. Ma dopo tutto questo si è perduto. E da lì la problematica di tutte queste malattie, anche malattie nuove, tipo la fibromialgia, che prima non esistevano. Tutto parte da quella di isbiosi. Quindi normalmente l'intestino, queste sono le cellule intestinali del tenno, che si chiamano enterociti. Gli enterociti hanno delle velocità che aiutano ad aumentare l'aria, la superficie per assimilare i nutrimenti. Questi aumentano, aumentano, aumentano. e anche, visto che sono attaccati uno con gli altri tramite tight junctions, vi lo dico in inglese perché non mi viene in altro modo, qui ci sono... Chiudete il microfono, per favore. Ci sono collegati uno con gli altri. Una volta che questa si perde, i patogeni entrano, creando quindi problemi infiammatori sistemici. Quindi l'omiosest immunitario intestinale si perde, si interrompe, creando un aumento dei patobionti e creando quindi problemi infiammatori sistemici anche. Quindi noi finiamo, il povero paziente finisce dell'immunologo, del reumatologo, del non so quale altereologo, ma il problema viene dall'intestino. Anche il gastroenterologo non capisce questo ancora. Ed è molto triste perché la ricerca è disponibile a tutti. su internet. Bisogna soltanto cercarla e trattare. Infatti non riesco a dimagrire, anche se mangio... Le domande le metto... Le domande dopo. Sto cercando di smettere quel microfono, quella persona che sta parlando lì, perché è molto noioso. Verrò chi è? Ecco, Gloria. Perfetto. Scusatemi, ritorniamo. Gloria è stata messa in muto. Allora, il ruolo del sistema immunitario nello sviluppo della disbiosi intestinale, cosa avevo messo io nella presentazione di ieri? Ah, sì, 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 perfetto. Tutto bene. Allora, bisogna avere un equilibrio tra gli enterociti, quelle cellule che io vi ho mostrato qui, il muco intestinale che è molto, molto importante, è stato un po' dimenticato, ma c'è la ricerca europea che ha messo un po' alla luce di nuovamente il muco, microbiota, come vi ho detto, per evitare la disbiosissiva e sifo e il sistema immunitario legato al sistema linfatico che porta le sigle in Italia e inglese che si chiama GALT. Parliamo un po' degli enterociti. Quindi, gli enterociti, riprendo, questi sono gli enterociti individuali, li vedete anche qui, e sono uniti da tight junctions, dalle junzioni serrate e hanno delle velocità, come vi vedete qui, per aumentare la superficie di assimilazione. Qui c'è il muco, questa superficie bianca, che aiuta a proteggere una sostanza bifidogena che nutre anche gli enterociti e protegge dei patobionti. Questo è quando tutto va bene. Troviamo quella persona che tutto va bene, dopo qualche seduta con me. forse. Allora, normalmente questi enterociti quindi bloccano il passaggio di patobionti, di molecole cattive, di metalli pesanti e prevede il passaggio e l'assimilazione di vitamine della B12, della B9, della B6. Quante tra di voi avete problemi di queste vitamine, di carenze vitaminiche? Quante tra di voi venite con un'assideremia bassa, con un ferro basso? Ed è per quello, quindi dare ferro va a aumentare i patogeni, i patobionti intestinali, soprattutto a livello del tenue, se c'è un assibo. Vi dirò tra pochi minuti ancora di più su questa tematica. Quando gli enterociti perdono, vedete, prima erano assieme, uniti, braccio con braccio, dopo queste giunzioni si perdono e occorre tutto il contrario. C'è assorzione passiva di macromolecole e l'assimilazione viene bloccata perché i patogeni, i patobionti si nutrono dei vostri nutrimenti. Quindi voi avete degli ospiti che non pagano né affitto eppure birrubano dei nutrimenti. Quindi è una pazzia. totale. Questo si chiama un stato di leaky gut in inglese, ma si conosce anche in italiano lo stesso nome e viene creato da escerici e coli, ma non solo, dalle tossine. Se avete amalgami nei denti, se mangiate troppo glutine, quindi c'è la gliadina e altri antigeni alimentari, anzi chiede altri batteri patogeni, e altri patobionti, creano questo stato di leaky gut, di intestino permeabile in italiano. Quasi tutti i pazienti mi arrivano con un leaky gut, direi un 70%. Gli altri hanno SIBO o una disbiosi, che non ha sviluppato un leaky gut, una permeabilità intestinale. Tutti i fibromialgici hanno una permeabilità intestinale, altrimenti non ci sarebbe una fibromialgia. Il muco intestinale, come vi ho detto, è quella sostanza bianca secretata dalle gelule goblet, questi che si vedono qui in blu, che secretano, quindi, proteggono gli enterociti, emettono una barriera, danno nutrimento anche agli enterociti, e proteggono dei petobionti. Il problema è stato riscontrato con un enzima che si chiama la Fucosiltransferase, o la FUT2, e in quegli individui, in quegli individui in cui mancano geneticamente la FUT2, non producono, non sono produttrici di muco, e allora si creano continuamente dell'esquilibrio dei microbioti intestinali. Continuamente hanno problemi di gonfiore, di maldigestione, di alito cattivo, di gas, di diarrea, di constipazione, veramente quelli che sembrano incinta, ma veramente non lo sono. A volte vedo le donne, ma guardo due volte prima di dichiarle se sono incinta oppure no, di farle gli auguri, perché dico, avranno SIBO, avranno un problema di FUT2, della secrezione, oppure no, e quindi a volte non dico niente. E questo squilibrio, visto che non sono secretrici, di questa enzima, aumenterà le candidosi croniche, quindi quei pazienti che nonostante io considero, consiglio degli antiparasitari di fare una purga per i vermi, di prendere dei antimicotici naturali, non riescono a sbarazzarsi di questa problematica, hanno o questa problematica di FUT2 o dei cisti, e vi parlerò dei cisti, e dei, credo che si dice così, dei cisti di patobionti nel corpo, quindi è quando, vi parlo di seguito, tra pochi secondi, quindi considerate che quando la situazione cronica non cambia e voi avete fatto tutto, potrebbe essere una situazione di FUT2 che si tratta prendendo gli ingredienti che vanno a creare questa enzima, quindi è stato già creato e molte ricerche è stata fatta a Lussemburgo, in Europa. e la composizione del microbiota è direttamente collegata a un polimorfine, quindi un cambiamento epigenetico dell'enzima FUT2 che altererà, va a alterare la diversità, la composizione della flora batterica intestinale secondo se sono secretrici o no e quello va a giocare un ruolo molto importante nell'accettazione corporea di antimicrobici e anche dei probiotici quindi a volte il corpo non li accetta perché è dovuto all'ausensia della FUT2 e quindi quell'inefficacità di probiotici ma non solo anche dei antimicrobici naturali può essere dovuto a una presenza di polimorfismo della FUT2 quindi a vedere e a considerare perché il muco vedete già dallo stomaco la cardia al fondo e l'antria presenta muco l'intestino tenue presente del muco il colon presenta del muco e l'ano presenta del muco quindi vedete la importanza di questa sostanza bifidogena che è lì per proteggerci e aiutarci vorrei parlarvi soprattutto del muco dell'intestino tenuo e lo farò tra pochi secondi vuoi microbiota capite che vi dirò guarderò la presentazione qui nell'altra lingua così vi dico quindi la microbiota è molto importante quindi sono la è la totalità dei patogeni nell'intestino i microbiota nell'apparato digerente piuttosto quindi quella va a sintetizzare le vitamine K la biotina il folato e sono importanti vedete come gioca un ruolo importantissimo va anche a riciclare gli acidi biliari perché il corpo non si fatica non si fatica e crea dei problemi di colesterolo perché il corpo cerca di riciclare tutto il tempo la manufatturazione come come tutto nella vita costa molto di più quindi il riciclo le costa di meno anche a livello energetico quindi se il corpo è lì a dover manufatturare a creare da zero da capo tutte le sostanze di cui hai bisogno finirà per fare un burn out un estaurimento e così venite poi alle mie consulazioni venite estauriti sposati e è dovuto anche al microbiota non solo ai surrenali e non solo ai surreni perché è il microbiota che va a a fare l'architettura del sono ed è come dell'asso ipotalamo surrenale capito quindi sono loro sono i batteri che vanno a dire se saresti stanchi oppure no come i surrenali andranno a funzionare di seguito troviamo il galt il galt è importantissimo anche perché è il sistema immunitario intestinale in inglese galt associated lymphoid tissue quindi è una superficie equivalente a un terreno lì dove si gioca il tennis quindi è enorme quindi si mette a piatto l'intestino il galt copre una superficie di un campo di tennis ecco e contiene tutti i linfociti tutti gli organi linfoid contiene tutti i linfociti e anche va a secretare l'immunoglobulina A una sostanza protettrice per il corpo quindi quando avete degli esami del sangue con una perturbazione nei parametri dei linfociti viene dall'intestino non guardate altrove viene dall'intestino capite il sivo finalmente arriviamo al sivo perché riprendo il muco intestinale qui il sivo in inglese significa small intestine bacteria overgrowth quindi una surpopulazione dei batteri nel tenue ma che cosa c'entrano questi poveri batteri nel tenue perché noi li abbiamo bisogno nel colon non nel tenue capite nel tenue cosa vanno a fare attenzione non parlo dei batteri cattivi quindi qui non parlo né di scighella né di clebsiella né di cerisciacoli o tutti questi batteri cattivi parlo di batteri che non dovrebbero quindi di batteri commensali batteri buoni però che non sono nello spazio nel luogo né in quantità adeguata quindi nel tenue creano delle grosse problematiche perché vi faranno vanno a entrare in competizione con l'assimilazione delle proteine degli acidi grassi della vitamina B12 quindi quanti tra di voi che avete problemi digestivi avete una carenza di B12 che non passa con la prendendo la metilicovalamina che è la vitamina B12 attivata perché questo perché questi batteri che non sono dove devono essere devono essere molto più in basso e quasi quasi unicamente nel colon vanno a decongiugare le acidi grassi quindi andranno a creare una steatorrea quindi dei feci pieni di 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 grassi quindi le feci che flottano o che non sono per niente formate vanno a a dividere la B12 a separare la B12 del fattore intrinse del fattore intrinseco penso che si dica in italiano il fattore intrinseco è nello stomaco quando questo arriva nel duodeno come ci sono tanti batteri loro dicono ma io vado a dividerti e quindi dividono la B12 del fattore intrinseco e questa B12 non viene assimilata quindi c'è una perdita B12 e questa 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 divisione dei B12 con il fattore intrinseco va a creare quindi problemi di assimilazione di ferro perché senza la B12 il ferro non viene assimilato e quindi avete una sideremia molto bassa un emocromo molto basso un emoglobina per terra ma non c'è voi prendete tutto il ferro che volete andresti solo a nutrire il sivo che avete poi il sivo è molto complicato molto cattivo perché creerà della fermentazione dei glucidi quindi tutti i glucidi che voi mangiate zuccheri fermenteranno creando del metano e quindi gonfiore addominali tantissimo gas e tanti tanti dolori intestinali quindi quelle persone che sembrano incinta hanno un sivo ricco in metano quelli che l'hanno ricco in idrogeno hanno la diarrea questo metano crea delle stitichezze quindi quelle persone che prendono tutto per andare in bagno ma non riescono a fare la cacca parliamoci chiaro hanno batteri ricchi in metano adesso stiamo guardando non credo che si arrivi a niente però la ricerca sta guardando come trattare questi batteri ricchi in metano o come trattare questi batteri ricchi in idrogeno per mettere fine alle fratulenze e alla constipazione e alla diarrea rispettivamente quindi ci saranno anche competizioni questi batteri andranno a bloccare l'assimilazione della vitamina D quanti tra di voi fibromialgici o con problemi intestinali avete una carenza nonostante le fialette di vitamina D che prendete mensualmente potete fare una cura per mesi e saresti sempre basso o dovresti sempre prendere per mantenere un livello relativamente adeguato di vitamina D ma tutto quello è dovuto al cibo alla fine c'è una traslocazione batterica perché nel fatto che ci sono tutti questi batteri da fronte agli enterociti questi finiscono per creare una permeabilità intestinale e la permeabilità intestinale che sia il micobiota che sia micosi o che siano batteri quindi qui avete visto che hanno perso la capacità l'integrità gli enterociti hanno perso quell'integrità tutti questi finiscono nella vena porta che finisce e va il fegato quindi quelli che parlano ancora di detox faccio una pulizia epatica ma cosa c'entra quella pulizia epatica quando io mi inquino da solo io mi inquino da solo e anche quelli patogeni quella micobiota quindi micosi funghi candida aspergilo e tutto quello rilasciano dell'alcol che poi va a creare la famosa stiatosis epatica che finirà per per la morte dell'epatociti ma per arrivare a quello c'è bisogno tanto è veramente una permeabilità immensa enorme però il meccanismo è lo stesso nonostante il grado di permeabilità intestinale e di sivo quindi vedete com'è importante questo non ho citato la fonte penso che si sia persa ma se mi ricordo bene una super ricerca un super giornale è il Nature il giornale più famoso al mondo spiega bene come tutto questo accade quindi vedete che se io tratto la candida o una permeabilità intestinale o un un sivo che accompagna e o dei metalli pesanti che nutrono quella candida perché ho mangiato e mangiando mescolo il cibo con gli amalgami il mercurio tutto finisce qui e si ho perso il muco perché a forza di avere tutto questo sivo ci sarà una surproduzione di una surproduzione di muco intestinale ma alla fine tutta surproduzione come quando c'è un impiegato che va in vacanza e poi non ritorna mai perché poi si è messo in malattia e che ne so quindi voi lavorate per due e poi se ne va un'altra quindi voi finite per lavorare per tre fino a che non ce la faresti più l'intestino è lo stesso quindi produce 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 muco 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 fino a un esaurimento di queste cellule goblet che finiranno per non produrre più quindi all'inizio si può vedere del muco quando si va in bagno quindi i feci ripieni ricoperti di muco che finirà per non esistere più perché c'è stato un esaurimento delle cellule produttrice di muco dovuto a questo sivo quindi i sivo non sono dei batteri cattivi sono dei batteri che dovrebbero essere nell'ultima parte dell'intestino tenue quindi abbiamo prima il duodenum il geogenum e l'ilium nell'ilio e c'è la valvola iliocecale giustamente per evitare il traspasso di batteri del colon al tenue ma a volte questa valvola inizia a non funzionare per problemi anatomici per problemi emozionali soprattutto e si inizia ad aprirsi c'è un passaggio un trasloco di batteri del colon che vanno al tenue e quello non è per niente buono il sifo è lo stesso che il sivo ma di origine funginico il microbiota è fondamentale nell'architettura dell'architettura del sonno quindi come voi arrivate a dormire è grazie al microbiota ai vostri batteri intestinali quindi andare a a dormire prima delle delle 11 di sera manterrà un microbiota adeguato perché si possano si possano sintetizzare delle proteine la la serotonina che finirà con la creazione della melotonina in Italia è stato molto di moda anni fa non so se lo sia adesso perché ho perso un po' il filo di tutto essendo in Francia anche un po' ausente nei social media e c'è stato un prodotto a base di serotonina o che era che che aiutava la produzione di serotonina penso non posso dire il nome ma ricco di caseina purtroppo però non è detto che quello risolve i problemi intestinali attenzione e vedrete perché il microbiota intestinale andrà a creare una permeabilità intestinale quindi più ci sono patobionti più c'è la possibilità di avere una permeabilità intestinale quindi a me piacciono molto i pazienti che vengono con un sivo con una disbio sì perché tre mesi dopo vanno già meglio e quelli che hanno una permeabilità intestinale ci vuole un pochettino di più anche sei mesi nove mesi a volte un anno di trattamento per poter mettere fine a questa permeabilità intestinale che non andrà via se non si tratta la disbio e il sivo e il sifo e anche i metalli pesanti microbiota rilascerà anche dei metaboliti encefalotossici e visto che quando c'è una permeabilità intestinale più questa è presente nel corpo più si rischia di avere una barriera ematoencefalica permeabile quindi c'è un trasloco di batteri intestinali al cervello e quello è molto pericoloso c'è stato adesso va molto di moda per i gastroenterologi perché certamente porta più soldi che trattare con antimicrobici naturali si chiama la terapia si chiama translocazione fecale quindi la no transplantazione fecale quindi ci fanno un trapianto dei feci solo che avendo letto tanta ricerca ho visto che questo non tiene a lungo termine e non solo questo se non che è stato comprovato che se io faccio se si fa una se si segue un trapianto fecale di una persona bipolare a una diciamo tra virgolette normale quella persona tra virgolette normale diventa bipolare e lo stesso è stato riscontrato quando si fa un trapianto fecale di una persona schizofrenica ad una normale quella normale tra virgolette perché cosa è normale diventa schizofrenica è pazzesco quindi tutto parte del microbiota e si vede come questi microbi questi creano anche l'architettura di neurologica è stato ho trattato tante persone bipolari in Francia e quasi tutte furono state diagnosticate dall'ospedale di Grenoble e viene sempre la diagnosi il contrandue il riferito medico che dice ci scusiamo ma abbiamo abbiamo fatto una ci siamo come dicono sto traducendo abbiamo fatto ci siamo confus come lo dico in italiano abbiamo una cattiva di anno se non ci siamo ressi conti lei non è non ha la malattia bipolare perché io non ho trattato la bipolarità ho trattato solo l'intestino quindi a me viene da ridere e ai pazienti anche ma noi non diciamo niente abbiamo fatto i nostri lavori tranquilli nel nostro ufficio il microbiota intestinale va anche ad affettare i neurotrasmettitori e questi sono molto molto conosciuti in Italia quindi abbiamo le proteine che se loro non vengono assimilate perché c'è un sivo o un sifo il triptofano non viene neanche non viene assimilato dalle proteine che è un aminoacido non viene sintetizzato in 5 idroxitritofano per poi creare la serotonina vedete che il ferro il calcio la B9 la B3 sono delle vitamine che vanno ad aiutare che sono biochimicamente attive in ogni fase vedete qui l'acido cloridrico quindi quelli che prendono della terapia antiacidi non riescono ad avere la serotonina o quelli che hanno un esaurimento di acido cloridrico perché il sivo crea delle problematiche a livello di stomaco anche quindi vedete l'importanza di una buona flora batterica e un'ausenza di sivo per poter dormire bene e creare la melatonina la dopamina anche è moltissimo importante quindi la serotonina è quella che ci rilassa che ci permette di dormire di avere un sonno profondo di aiutare ai livelli di cortisole e la dopamina è quella che aiuta io la dico io dico che la dopamina è quella degli intraprendenti quelli che hanno un paziente che ha non esagero 27 compagnie in Francia quello è un iperdopaminergico quindi ha troppa dopamina per me ma sono quelli che intraprendono quelli che sono che hanno fiducia in sé quelli che sanno dove vanno che hanno l'energia da fare e da iniziare e da finire i progetti hanno buoni livelli di dopamina quindi vedete come il microbiota può affettare chi siamo e come ci ci relazioniamo con gli altri e cosa riusciamo a fare della nostra vita e vedete che qui l'adrenalina è un su prodotto della dopamina quindi quando sentiamo lo stress è perché ci sono problemi a livello dopaminergico il gava è lo stesso l'acetilcolina è quella con i neurotrasmettitori che aiuta alla concentrazione ed è anche importante e dipende anche dal microbiota sovente leggo e mi chiedono cosa c'entrano i metalli tossici e i metalli pesanti per metalli pesanti io faccio riferimento a tipo piombo cadmio piombo cadmio mercurio arsenico i metalli tossici sono il rame e l'alluminio ma sono comunque presenti e non si possono dimenticare quando si tratta una sivo e una disbiosi perché sono lì quindi sono più ci sono metalli pesanti più c'è sivo più c'è sivo e disbiosi più ci sono metalli pesanti quindi fanno parte della stessa equazione non si possono dissoziare e non so sì spero aver messo quelle delle ciste quindi per darvi un po' di informazione spero non si non stiate mangiando adesso perché mi scuso i feci ideali sono quelli di tipo 4 quindi l'ideale è di avere quello a volte tipo 3 ma mai 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 tipo capra e mai 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 tipo mucca che mangia cereali mucca che mangia cereali non so se avete visto negli allevamenti intensivi hanno feci così e vi lascio intravedere che stiamo mangiando male e che abbiamo un sivo e una disbio sì questi questi hanno piuttosto un sivo ricco in metano questi hanno un sivo piuttosto ricco in idrogeno i biofilm allora io vi chiamo biofilm sì parliamo di biofilm io li chiamo cisti anche in italiano perché è un film biologico che ricopre tutti i batteri ad oggi al giorno d'oggi l'università di lione che insegna ai biologi accetta che tutti i patogeni si inchista si incista tutto tutto ogni patogeno va a incistarsi va a creare una copertura di polisacaridi poli molti e sacari di zuccheri molti zuccheri come sapete i polisacaridi non sono digeribili per il corpo quindi questi patogeni sono molto furbi prendono dei metalli pesanti altri patogeni con sé si ricoprono di un film biologico che si chiamano anche ciste e si proteggono quindi quando andate a fare una coloscopia a volte non trovano niente perché sono incistati quando andate a fare un breath test per sapere il breath test di metano o di idrogeno per sapere se avete una presenza di di sivo sono incistati questi già iniziamo male perché i parametri sono erroni come tutto parametro a livello medico quasi tutti sono sempre molto più hanno valori di riferenza molto ampi molto alti perché nessuno entra perché nessuna persona entra tra la la forchetta di valori e quindi nessuno ha nessuna malattia ma siamo tutti malati e così ci se crediamo questo io ci credo e così ci controllano è una demologia per vatterci per vatterci allora questi si nascondono escono quando vogliono del biofilm ed entrano quando vogliono l'idea è quindi non solo quelle persone che non rispondono agli antimicrobici e agli antiparassitari e ai protocolli di antivermi naturali può essere perché hanno quel polimorfismo del muco o perché hanno i patogeni talmente cronici che si sono incistati quindi l'idea è di creare di perforare quelli cisti e perché gli antimicrobici naturali possano entrare sapete che tenete conto che una sola assunzione di antibiotico crea già delle ciste di biofilm quindi fate il conto di quanti antibiotici avete presso in vita vostra e contate le moltiplicate per i biofilm quindi non è che l'antibiotico abbia funzionato l'antibiotico ha solo creato un biofilm quindi nessuna persona ne trova i patogeni i patogeni lì che dice ma io sono lì io sono ancora lì e nessuno li trova e lui è lì che fa la festa con i vostri amalgami il round up che avete presso dalla pasta barilla e un'altra pasta qualsiasi pasta ci sono tante contaminate di round up e fa la festa lì dentro del suo biofilm fa danni esce e poi rientra a fare la festa di nuovo incredibile tutto questo viene nutrito i patogeni creano quelle ciste anche si nutrono di tutto ciò che voi mangiate che non corrisponde e che crea anche una permeabilità intestinale soprattutto la caseina voi direte non è la tossio no 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 è la caseina la proteina dei prodotti latio cassiari cassiari e glutine crustacei moluschi le oleaginose il bianco dell'uovo tutto entra in queste intolleranze se volete capire di più inviatemi una mail questo questo l'ho lasciato solo per tradurli e per demandarvi allora voi andate quando pulite casa vostra cosa fate prima di tutto vai lavi per terra lavate per terra o passate l'aspirapolvere prima di tutto o la scopa io non so voi ma io passo l'aspirapolvere e poi se c'è bisogno passo lavo per terra e quindi in francese si chiama Beliosarpier vedo spesso sento spesso pazienti che vengono malati da anni con 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 gli analisti medici che vanno da tutto dal nord all'est all'ovest della Francia senza nessun risultato vanno anche a Ginevra per niente per assolutamente niente e hanno gli hanno dati tutti dei probiotici ma hanno soltanto lavato per terra ma se voi lavate per terra a casa vostra cosa succede l'acqua si secca e poi voi camminate sopra tutto lo sporco che c'era prima quindi non avete assolutamente fatto niente nella vostra casa avete soltanto lavato un po' così e poi camminate sopra tutto lo sporco quindi perché dare dei probiotici quando prima si deve pulire si deve assolutamente pulire poi si vede se c'è bisogno di ripristinare la flora batterica ma io preferisco dare i nutrimenti perché il corpo faccia se stesso ripristini se stesso la flora batterica secondo i suoi bisogni non dire io voglio una flora batterica secondo il lavoratorio questo a b o c perché ogni lavoratorio crea il suo probiotico e lì io vedo un commercio enorme che non mi piace per niente perché ognuno si batte dicendo io ho il miglior batterio ho il miglior probiotico meglio di te meglio di l'altro meglio di l'altro ma è solo un commercio secondo me bisogna veramente veramente aspirare pulire bene la superficie per poi dare la possibilità al corpo di ripristinare come lui vuole e come lui ha bisogno perché ognuno ha il suo microbiota e non è un laboratorio che va a dirci commercialmente cosa ci conviene quindi non è detto che i simbionti e dando dei simbionti tipo bifidovatteri latovacilo possa fare più forza che la quantità di gericciacoli di clostridio e di clepsia che la presentano nel vostro organismo quindi bisogna assolutamente pulire gli intestini pulire l'intestino tenue pulire il colon e non solo con idrocolonterapia perché quello non tocca il tenue e siamo di più in più toccati e abbiamo più problematica nel tenue che nel colon quelle persone che hanno una stitichezza cronica quanti tra di voi fibromialgici o quelli che hanno quel gonfiore le flatulenze il reflusso gastrico la fatica la nausea e anche i problemi di crescita nei bambini e una presenza di sivo quindi quindi a niente serve fare un'idrocolonterapia quando il problema è molto più alto ho creato un metodo che le sigle sono in francese ma vi li spiego comunque pulire sanare sicilare e reparare quali sono gli tappi che io seguo ad ogni consulenza quando vi vedo e sono da fronte a voi utilizzando tantissime metodiche come quella della bioresonanza quantistica e vi faccio vedere qui cosa si vede con la bioresonanza quantistica vediamo e scusatemi lì quindi si vedono lì i microorganismi e i vermi quindi qui non c'è errore a me che si faccia il breath test di metano di idrogeno che si faccia la coloscopia a me non mi va non mi viene a me non mi interessa perché io faccio tutto nel mio ufficio e rido da quelli esiti negativi o falsi negativi purtroppo che sono tanti falsi negativi perché se non consideriamo il muco se non consideriamo le cisti sono falsi negativi e se i parametri sono stati erroneamente e o appositamente creati perché nessuna persona entra in quei parametri per continuare ad avere una popolazione di malati e allora abbiamo dei grossi problemi ma io rido nel mio ufficio perché vi mostro questo software che mi fa vedere vedo i funghi i virus i protosoi i vermi altri funghi che sono presenti nella persona quindi mettendo gli elettrodi nella persona vedo quale sono le sue problematiche una volta che so qual è la flora batterica se è piuttosto funginica se è piuttosto batterica o altro vado a trattare con il prodotto adeguato tenendo sempre conto di queste età che vi ho detto pulire sanare sicilare e reparare sicilare la permeabilità intestinale sanare l'intestino che è stato toccato per i patobionti pulire i patobionti e poi riparare tutto il sistema immunitario e tutta l'infiammazione che è andata a finire altrove nella mucosa bucale e nella mucosa respiratoria in tutte le altre mucose come vi ho già detto all'inizio quindi penso sia stato abbastanza chiaro se avete delle domande vi dico che queste sono le date di consulenza solo su whatsapp avviatemi solo su whatsapp scusatemi lì perché ho perso il codice e non posso più accedere al mio telefono e finché non vado in italia non posso accedere al telefono ma ho il whatsapp sul mio altro e posso solo rispondere su whatsapp o via mail quindi scusatemi per i disturbi e qui sono sono un po' così io scusatemi quindi queste sono le date in cui inizio le consulenze la mail è lì e apro la chat per le domande se volete chiedermi è il momento di farlo di farlo